buongiorno buongiorno allora dopo ben 12 giorni 11 giorni isolamento per con il covid ritorniamo a fare un giretto con il KTM 690 quindi giustatevi questo video allora oggi testiamo il microfono mettiamo il microfono che ho comprato nuovo per poter parlare nel gasco e la strada che è da un po' che non faccio che è il Dio del Bonferrato e la prima volta si porta a un cartoglio che funziona con la macchina vediamo che mi comporta non mi comporto io visto che da un po' che non ci vado non ho protezioni grandi protezioni quindi oggi supporto in tete, guanti, casco ma non ho la tuta qui qui ho, vediamo un po' che c'è il Gilsson, ci sono anche un po' che cazzo e però oggi si va leggi, ci vediamo che possiamo bruciare anche stavolta il Gilsson e quindi anche una volta, una volta che si arriva il Gilsson si è un po' che c'è il Gilsson mi piace da quella che c'è il Gilsson si è un po' che c'è il Gilsson è una volta che si è un po' che c'è il Gilsson Poi? Un'altra parte? Da! E' la una forte forte Questo per chi non lo conoscesse è il Monferrato Quindi vigne, noccioletti, campagna, vingaggio della Madonna Una stoppa che è una donna Scusa, dove? Prego da l'anima 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 Grazie a tutti Grazie a tutti I ponti americani Non so perché I ponti Quello dei Parte dei film western Però mi piace Poi qua c'è anche Il fiume Erro Che passa sotto E Abbiamo fatto una piccola tappa Per fare Due foto Due riprese E adesso Riprendiamo Alla prossima Alla prossima E siamo arrivati Adesso siamo in partenza E purtroppo Purtroppo Mi perdo Questa Sontuosa Apericena 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 Amici Che porta La mia casetta La C'è ormai Solo al tramonto Il giro È stato Breve Belle strade Un po' sporti A causa del fango Sì perché Perché Io non è che Vado allo spasolo Sulla benzina E quindi E quindi 160 km Non ci vediamo Non ci vediamo Non ci vediamo Ma il giro Oggi Era questo È arrivato È arrivato un po' Un po' Di corte Non è Unissimo Di giro E non Di da solo Però Come è sciolto Mi piace Mettete Tanto Ciao 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 Ciao